4 per e vittoria direi tutto sommato anzi tutto sommato proprio tranquillissima proprio una partita che già dal sessantesimo comunque anche dal sessantacinquesimo ecco quando c'è stato il 3 a 0 ma anche prima anche se eravamo sull'1 a 0 sul 2 a 0 comunque il Genoa non è mai ragazzi stato pericoloso è una parte quel retropassaggio sciagurato di lasaro che sembra sembra che giochi poco tranquillo questo rasaro lo si vede quando sbaglia i compagni si vede che lo incitano sta giocando poco sereno questo giocatore quindi per piacere lasciatelo giocare in pace e basta senza criticarlo appena fa uno stop appena fa un passaggio sbagliato perché già l'ambiente inter è difficile questo è appena arrivato all'inter se iniziamo così questo non giocherà mai mai serenamente e non potrà mai migliorare che sia forte che sia scarso che sia se non gioca serenamente non potrà mai dimostrare quello che vale se vale qualcosa ovviamente bisogna vedere sul campo però deve giocare sereno detto questo ragazzi ma lukaku proprio ma che schifo lukaku mamma mia proprio un bidone un bidone come come sentivo anche anche in questa in questa settimana dove l'inter è uscita dalla champions dove l'inter ha pareggiato pareggiato all'ultimo poi tra l'altro contro la fiorentina lo sentite di tutti i colori su lukaku è un bidone questo quell'altro ragazzi naturalmente non non da interisti da altri tifoserie va bene gli sfottò ma certe cose sono proprio ridicole infatti oggi l'ha dimostrato primo gol lukaku su assist di candreva secondo gol assist di lukaku per ragazzi gagliardini ritorna gagliardini fa gol bellissimo il gesto da sottolineare sul rigore dove se non sbaglio gagliardini si procura un rigore ragazzi nettissimo poco da dire lukaku aveva il pallone in mano esposito stava andando appunto fuori dall'aria perché doveva tirare lukaku dice no aspetta un attimo giri vieni qua tiene il pallone gli ha dato il pallone e gli ha fatto battere il rigore a sebastino esposito questi ragazzi questo fa gruppo questi sono giocatori che fanno gruppo che pensano prima alla squadra che giocano per la squadra che pensano ai propri compagni non solo a se stessi questi è la differenza e capite bene di chi sto parlando questa perché io ho ancora una flebile speranza che quelli che stanno ancora a parlare del shinocchio e shinocchio no capiscono cosa vuol dire giocare di gruppo e questo vale sia per lui che per quelli che sono stati mandati via ok c'è un motivo perché il calcio si gioca di gruppo il calcio se non c'è il gruppo non fai niente basta vedere il napoli ragazzi il napoli ha dei giocatori forti a delle individualità forti non il gruppo sembra scompattato non so che cazzo hanno si vede che non è unito si vede che non se non c'è il gruppo puoi essere forte quanto vuoi questi sono giocatori quindi un applauso a romelo lucaco e un applauso al primo gol di esposito ragazzi a me piace un sacco sto giocatore e spero diventerà innanzitutto abbia sempre più spazio che abbia sempre più spazio da giocare eccetera oggi mi sarebbe piaciuto anche vedere a come però entrato di marco non ho capito sinceramente a meno che di piraghi non era stanco non lo so e poi il quarto gol di lukaku su assist ancora di candreva quindi anche candreva ragazzi due assist gagliardini un gagliardino un gol che andreva due assist gagliardini un gol e si è procurato il rigore candreva due assist lukaku un assist e due golle insomma esposito che ha giocato ha dato tutto per tutto che che devo dire oggi che devo dire ma poi che cosa ha fatto lukaku ragazzi ma che cosa ha fatto che cosa ha fatto strepitoso strepitoso e stop e stop non c'è altro da dire per fortuna scrina non si è fatta munire quindi se ha munito solo bastoni che non era diffidato quindi aspettiamo adesso prossima partita abbiamo rivisto sensi abbiamo rivisto sensi dopo gagliardino abbiamo rivisto anche uno spezzone consensi io ero là che pregavo che non si rifacesse male gagliardini però è uscito un po zoppicante al piede che si era fatto male speriamo niente di grave solo una botta del piacere dovrebbe rientrare non lo so se per il 6 gennaio c'è anche parella non credo però forse in panchina sì però ragazzi tutto sommato adesso abbiamo recuperato di recuperato la juve che si era portata avanti 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 quando era martedì mercoledì contro la samp le due le due squadre di genova ragazzi sono inguagliate però questo mi sa che tiago morta mi sa che lo mandano via mi dispiace per lui sinceramente però questo è quanto ragazzi è il genoa veramente il rischio anche la samp ma il genoa veramente non ha fatto niente cioè almeno la sampdoria contro la juve si è resa pericolosa ha giocato ha fatto il genoa non ha fatto niente ragazzi il genoa non ha fatto avrà fatto un tiro in porta ma di azioni pericolose ne avrà fatte forse uno o due da tiri da fuori ma niente di eccezionale neanche sul retropassaggio di lazaro quello ha fatto lo ragazzi e dai sono messi proprio male io spero comunque che si salvino io spero comunque che si salvino niente ragazzi sinceramente non c'è niente da dire sono soddisfatto della partita abbiamo giocato molto bene abbiamo dominato senza ombra di dubbio felice per esposito felice per lukaku lukaku naturalmente le mie ragazze migliori in campo senza se senza ma su questo non ci piove secondo me e niente ragazzi quindi adesso c'è la sosta domani comunque vi ricordo che gioca bordenone ascoli c'è anche la super coppa italiana vediamo se magari qualcuno fa live io non credo magari qualcuno in italo qualcuno fa live ci trovate lì e niente sempre forza intera ma la sempre è la prossima ciao ragazzi ciao ciao ciao